Alessio Esposito si viene da un buon risultato, quello raggiunto qui domenica scorsa al Monterisi contro il Pomigliano, adesso bisogna dare continuità in questo girone di ritorno a partire dal match di Sorrento. Sì, la partita contro il Pomigliano è stata un'ottima gara, abbiamo fatto molto bene ed era importante ripartire bene e cominciare bene questo 2019 e sicuramente nel girone di ritorno dovremo cercare di sbagliare il meno possibile, se non nulla, per cercare di riprendere il Picerno e metterci sopra. Hai già giocato a Sorrento, quali possono essere le insidie di questa trasferta, di questo campo campano, dato che tutti quanti parlano delle difficoltà che si riscontrano sui cosiddetti campi campani? Sì, sì, oltre comunque al campo campano, diciamo che il campo del Sorrento è un campo abbastanza stretto e piccolo, quindi dovremo essere bravi, palla al piede, veloce negli scambi, bravi anche nel riaggredire quando perderemo palla. Oltre anche al fatto che loro hanno cambiato allenatore, quindi sicuramente troveremo una squadra un po' più ostica, ancora più ostica, diciamo, di quello che ci potevamo aspettare una settimana prima magari. Quale deve essere il quid in più di questo girone di ritorno per l'audace Cerignola? In più non saprei, sicuramente dovremmo cercare di fare più punti dell'andata, questo è poco ma sicuro, però comunque se ci metteremo qualcosina in più, come hai detto tu, che magari ci è mancato nella gara col Fasano, magari partite del genere, oppure col Picerno proprio all'andata, sicuramente alla fine il campionato vedrà noi primi. Al prossimo episodio